ciao a tutti sono Enrico e vi do il benvenuto o il bentornato sul mio canale quest'oggi sono qui dopo un grosso periodo di pausa e me ne scuso cercherò di essere più presente per parlarvi di un film che ha avuto tantissime anteprime tra anteprime mi stampa e anteprime aperte al pubblico sto parlando come avete già letto dal titolo di transformers one film d'animazione cinematografico il primo se non sbaglio film d'animazione cinematografico salvo quel film negli anni 80 transformers in the movie che andava ad aprire alla quarta stagione televisiva di transformers g1 questo è il primo film dopo tanto tempo in computer grafica quindi nella emizione dedicato ai transformers che tutti conosciamo da quel lontano 2011 con transformers michael bay potete sbagliarmi sull'anno ma dovrebbe essere intorno al 2011 prodotto dallo stesso michael bay però vi dirò questo film non è collocabile come prequel alla saga di michael bay benché sia prodotto da lui il film funziona da prequel a quello che conosciamo dei transformers andando a raccontarci le origini del conflitto tra autobot e decepticon e approfondendo il rapporto tra optimus prime e megatron non vi dico altro perché incorrerei in spoiler già dal trailer comunque per chi l'ha visto si è potuto vedere che tra optimus prime e megatron c'è comunque un rapporto amicale e durante il film si capirà come i due poi andranno a diventare leader delle proprie fazioni e di come nascono queste fazioni io ho apprezzato molto questo film l'ho visto due volte al cinema sabato e domenica che è stato appunto in anteprima uscirà ufficialmente nelle sale il 26 settembre quindi la settimana prossima per chi vedrà il video quando lo caricherò però come ho detto già ho avuto parecchie anteprime stampa quindi c'è gente che l'ha già visto e l'ha già resensito dei feedback che ho avuto comunque queste anteprime non sono state molto gettonate io entrambe le volte che sono stato a vederlo sarà che sono stato nel primo pomeriggio e nel fine di settimana è stato anche bello quindi magari la gente è andata altrove non c'era tanta gente in sala e la sarà anche bella grande però io vi consiglio di andare a vedere questo film non vi dirò molto altro perché più entro nel dettaglio più si incorre in spoiler anche perché la storia è molto molto semplice è diretta però funziona molto bene il film benché sia un prodotto animazione ha umorismo infantile ma non così tanto da renderlo un film prettamente per bambini e trova un giusto equilibrio tra quella che è la comicità rivolta principalmente a un personaggio bumblebee che già nei film abbiamo visto essere il più vicino al rapporto con gli esseri umani nello stesso bumblebee il film dedicato a lui che funzionava anche un po da reboot o prequel a quello che era il franchise di Michael Bay si è visto come aveva un rapporto speciale con gli esseri umani e qui gli esseri umani non ci sono per forza di cose però il personaggio rimane quello che abbiamo bene o male conosciuto e quindi io vi consiglio di andare in sala a vederlo perché l'animazione mi è piaciuta molto e molto bello molto belli i titoli di coda è un pezzo hip hop rap adesso non mi ricordo gli artisti che hanno partecipato comunque sul mio profilo facebook e trends ho anche messo il video in questione molto bello e l'ho ascoltato dieci volte da che l'ho conosciuto e mi sa che comprerò il vinile se lo rilasceranno perché comunque anche gli score interni al film sono molto funzionali ricordano un po gli score della saga di Michael Bay fanno loro fanno loro non sono niente di particolare ma non rimangono impressi però sono carini funziona e niente io vi invito quando uscirà a recuperarlo perché secondo me è un buon prodotto di animazione che può avvicinare chi non conosce i transformers in quanto è un origin story a tutti gli effetti svincolata da tutto quello che è stato presentato finora può in qualche modo comunque ricollegarsi a quello che abbiamo già visto per chi è già visto ma non per forza di cose quindi andate tranquilli per chi invece conosce bene i transformers può essere qualcosa in più per ampliare il bagaglio culturale che sia e in più ho già letto che il regista ha in mente che se il film funzionerà di svilupparlo eventualmente come una trilogia quindi speriamo bene dai speriamo bene che il film funzioni non dovesse comunque funzionare state tranquilli perché è un film a tutto tondo racconta una storia autoconclusiva sì lascia aperte alcune cose ma non per forza di cose rendono il film inconcludente anzi assolutamente no e questo è un applauso perché oggi come oggi si tende ad aprire le porte a sequel che poi magari non verranno fatti quindi niente vi invito a mettere like e a condividere il video se vi è piaciuto scusatemi ad attraverare la campanellina iscriviti al canale e noi ci vediamo al prossimo video ciao